Andiamo avanti, occupiamoci adesso anche di influenza perché da domani parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale rivolta agli operatori sanitari della provincia di Boggio e vede il coinvolgimento dell'ASD, del Policlinico degli Ospedali Riuniti del Capo Lugodano e di Casa Sollevo della Sopperenza di San Giovanni Rotondo. I dettagli nel servizio che abbiamo preparato. Ed eccoci alla pagina sportiva con l'attesa per la sfida delle franchi di Firenze questa sera per gli azzurri di Roberto Mancini che affronteranno in amichevole la Moldova. Test importante non solo per il ranking mondiale ma anche in preparazione delle due sfide contro Polonia ed Olanda valide per la Nation League che si svolgeranno l'11 ed il 14 ottobre. Intanto il tecnico azzurro ha risposto piccato alla presa di posizione del ministro della Salute e Speranza sullo sport e in modo particolare il calcio. Sentiamo. È tutto per questa edizione serale di World News 24. Grazie per essere stati con noi. Le notizie le ritroverete come sempre sui nostri canali social. La prossima edizione del nostro telegiornale domani mattina alle 9. Buon proseguimento di serata a tutti. Grazie. Grazie.